Giugnetti! Dovete assolutamente provare queste patatine di zucca al forno. Vi innamorerete del loro sapore e della loro consistenza. Buonissime! Utilizziamo metà zucca delica o mantovana. Eliminiamo tutti i filamenti e i semini con un cucchiaio. Ricaviamo delle fette, eliminiamo la buccia e tagliamo cubetti. Trasferiamo in una ciotola. Condiamo con olio, sale, noce moscata, semi di cumino, zenzero, un rametto di rosmarino e foglie di salvia. Diamo una bella mescolata. Trasferiamo tutto in una leccarda. Aggiungiamo uno spicchio d'aglio tagliato a metà. Inforniamo a 180 gradi per circa 25-30 minuti.